Mamma e papà fondarono il ristorante Vittorio in via Papa Giovanni a Bergamo nel 1966, ora da otto anni ci troviamo qui, in queste campagne bergamasche dove abbiamo potuto regalare ai nostri ospiti quel qualcosa in più che forse prima mancava. Siamo cinque fratelli, tre maschi e due sorelle, nasciamo da una famiglia di ristoratori, due persone stupende perché ci hanno veramente trasmesso quelli che erano per loro i veri valori della vita, la famiglia e il lavoro. Si sono aggiunti tutti i cognati, cognate, chi in amministrazione, chi in pasticceria, chi in laboratorio. Amo i dettagli delle belle cose, amo la cura dei particolari, mi piace coccolare il cliente e farlo sentire come a casa. Da subito mio padre poi aveva la lungimiranza di mandarmi per il mondo, imparare nei milioni di ristoranti del momento e quindi andavo e poi tornavo e portavo a loro tutte le novità, tutte le nuove tecniche, tutte le ricette imparate per poi applicarle nel nostro ristorante. Sono quindi grato a loro per quello che mi hanno trasmesso. Il responsabile della cucina, con la supervisione naturalmente di me e Chico, è il nostro cognato Paolo Rota. Cerchiamo di portare al tavolo dei nostri clienti i prodotti migliori. Partendo da questo presupposto diciamo che li lavoriamo sia in maniera tradizionale che anche in maniera innovativa, quindi con le tecniche e le attrezzature nuove di oggi e diciamo che la cucina non è mai ferma, per cui la nostra ricerca è sempre in movimento. Il vino è uno dei grandi protagonisti. È talmente tanta la mia passione che in questi anni si è sviluppato qui alla Cantalupa, in un vecchio vigneto poi ripreso, risistemato e ripiantato, la nuova azienda vinicola nostra, la Cantalupa. È proprio il caso di dirlo, nella nostra famiglia l'unione fa la forza. Ogni giorno affrontiamo questo lavoro con passione e amore. Il nostro scopo, il nostro risultato è di quello di rendere felici i nostri ospiti che abbiamo qua in Réle Chateau.